Toxic Trip, in Polonia simulazioni di attività CBRN. A Pozzuoli ci si addestra per far fronte alle emergenze. L'appuntamento con la salute al Tennis & Friends. Bentrovati con le notizie di videonews. Si ripete l'appuntamento annuale con l'esercitazione NATO Toxic Trip, giunta alla sua venticinquesima edizione. Circa 500 uomini e donne appartenenti ai 16 paesi della NATO si sono addestrati dal 26 settembre al 5 ottobre a Gidinia, in Polonia, nella simulazione di attività in scenari di difesa chimica, biologica, radiologica e nucleare connessi con le operazioni aeree. L'aeronautica militare ha preso parte all'esercitazione con un team di circa 60 specialisti provenienti da vari reparti, tra i quali il terzo stormo di Villa Franca, ente di riferimento nel settore dell'AER-CBRN, ossia la capacità delle forze aeree nel contrasto delle minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari. L'evento addestrativo, che ha visto la partecipazione anche di un team dell'esercito italiano, ha avuto la finalità di testare e sviluppare la collaborazione degli specialisti in questo delicato settore. Addestrare il personale della Forza Armata a pianificare e gestire le attività di supporto alla popolazione civile in caso di emergenza e calamità naturali. Questo è uno degli obiettivi dell'esercitazione Epesto, giunto alla sua quarta edizione e terminata lo scorso 3 ottobre a Pozzuoli. L'attività, promossa ed organizzata dal Comune di Pozzuoli e dall'Accademia Aeronautica, ha visto la partecipazione del personale della Forza Armata, del Servizio 118, della Croce Rossa Italiana e della Protezione Civile. È stato simulato un evento calamitoso che ha reso necessari gli interventi dei mezzi di soccorso, evacuazione e trasporto feriti e degli elicotteri del nono stormo. Anche in questa edizione gli studenti e gli allevi dell'Accademia Aeronautica hanno condiviso l'esperienza nel campo della prevenzione e della protezione civile. Prevenzione, sport e salute sono queste le parole d'ordine del prossimo weekend al Foro Italico di Roma. Fino a domenica l'Aeronautica Militare sarà presente all'ottava edizione di Tennis and Friends, un evento organizzato dalla Fondazione del Policlinico Universitario Agostino Gemelli e finalizzato alla prevenzione delle malattie tiroidee e metaboliche. Per l'occasione al Foro Italico è stato allestito un vero e proprio villaggio della salute, all'interno del quale saranno presenti equip di professionisti tra medici e paramedici. L'Aeronautica Militare offrirà la propria consulenza nei campi della odontoiatria e dermatologia e darà la possibilità a tutti di effettuare check-up gratuiti. Nello spazio espositivo dell'Aeronautica Militare i visitatori potranno osservare da vicino un elicottero HH-139 del quindicesimo stormo in configurazione di trasporto medico e provare l'ebbrezza del volo a bordo del simulatore ludico delle frecce tricolori. Vi aspettiamo sabato 13 e domenica 14 ottobre dalle 10 alle 18. Per oggi è tutto, Video News termina qui, se volete guardare tutti i nostri servizi lo potete fare iscrivendovi al nostro canale YouTube. Grazie a tutti.